Bentornati in questa nuova puntata di Game Boy Collection. Quest'oggi andremo a vedere un prodotto non ufficiale per quanto riguarda il Game Boy. Stiamo parlando del videogioco basato sulla saga dei Cavalieri dello Zodiaco, Night of the Zodiac, The Fenix Return. In questo caso abbiamo la versione francese. Siamo davanti a un progetto fan-made uscito o meglio rilasciato da pochi mesi e in realtà non è neanche tanto male. Andiamo a vedere la cartuccia perché possiamo parlarne relativamente. Ripeto, è un progetto fan-made e è possibile recuperare online la cartuccia contenente la ROM di questo progetto. Detto questo vi lascio al gameplay. Buona visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!